NONNO! Ah, no. Io e Jacob ci separiamo. Sono preoccupata per loro. Non gliel'abbiamo ancora detto. Amo il Natale. È l'unico momento in cui siamo ancora... una famiglia. Voglio un altro Natale. Se vuole il Natale ad agosto, lei lo avrà. E voi due non rompete le scatole. Tre, due, uno e prima! Vorrei qui con me anche il resto della famiglia. Sì, sono con noi. Ok, Yowie, rapporto. Regali di Natale. Ad agosto. Bimbi, per una bambina di circa dieci anni. Non è Natale senza di loro. E questa cos'è? Neve artificiale. Chiamala a un osatore. E voglio la processione del panettone. Sì, assolutamente. Non c'è stata una trasgressione. C'è stata una concessione. Tranquillo, prete. È un tatuaggio quello che hai sul petto? Sì. Sai cosa mi piace di te, Claire? Che non ti arrendi mai. Andremo in mongolfiera. Posso usare la tua carta di credito? Ti prego. Sì, usa la carta di credito. Tu unisci le persone. Saliranno odiandosi e scenderanno che si ameranno di nuovo. Tranquilli, va tutto bene. Sei l'amore nazione. Vieni all'hotel de Donomite per un Natale in famiglia. Allora, buon Natale.